Sicuramente è un momento un po' difficile, però quello che tengo a precisare è che prima di tutto siamo uniti, siamo una squadra abbastanza unita e compatta. Sappiamo che stiamo attraversando un momento così, un po' difficile e ora più che mai il mio supporto è importante per questa squadra. Sono convinto che sia delle mie potenzialità che quelle della squadra che possiamo venire fuori da questo momento, sono stra-convinto. Il mister settimana per settimana sceglie sempre gli undici che potrebbero... la formazione migliore diciamo. Tutti ci alleniamo bene, tutti ci alleniamo allo stesso modo, quindi tutti andiamo dalla stessa direzione. Quindi non c'è nessuno che va contro il mister, va contro il direttore, va contro la società. Qua noi siamo il Bari, il Bari è una squadra importante, non può pensare a queste cose. Il Bari deve fare soltanto bene, deve pensare solo al campo. Alla fine il campionato ci dice che mancano ancora 18 partite, quindi noi non possiamo stare a pensare che il campionato è finito a Venezia. Siamo ancora in zona play-off, possiamo ancora fare tanti punti per fare qualcosa di importante. Ripeto, sicuramente dobbiamo cancellare queste ultime due partite perché avete ragione voi, hanno ragione i tifosi che non abbiamo dato quello che una squadra come la nostra deve dare. Perché una squadra come la nostra non può stare, non dico in quella classifica, ma non può fare queste figuracce. Io sono sereno, convinto con tutto il resto della squadra che possiamo fare bene. Non dobbiamo farci influenzare da queste due partite che abbiamo perso perché la verità è che il campionato è ancora lungo e possiamo fare tanti punti. Fino a un mese e mezzo fa eravamo secondi in classifica, primi, non so. Capita anche alle squadre penso le più grandi, capita all'Inter, capita di avere un momento di difficoltà. In questo momento è capitato a noi. In questi momenti bisogna soltanto ricompattarsi ed essere uniti perché soltanto così possiamo uscire fuori. Ora sabato viene una squadra fortissima dove forse è meglio affrontare queste squadre per dare, speriamo, la svolta. Stiamo lavorando bene, siamo pronti per affrontare questa partita che sulla carta è difficilissima, però che tutti vorrebbero giocare alla fine. No, stiamo lavorando bene, sia a livello di intensità come ci chiede il mister che a livello tattico ora ha provato qualche soluzione. Vediamo, dai. Io sono convinto che faremo bene. Io quello che voglio dire a questi tifosi è che lo so che sono delusi, come sono delusi io, come siamo delusi tutti, tutta la squadra, il mister, tutti. Però ora non dobbiamo farci prendere da questo, noi dobbiamo stare tranquilli perché siamo consapevoli che, lo ripeto ancora, siamo una squadra fortissima che basta una vittoria per farci riprendere il cammino che avevamo intrapreso fino a poco tempo fa. Quindi spero che questi tifosi continuino come stanno facendo a darci una mano perché per noi sono fondamentali. In questo momento incontriamo una squadra forte che viene da 16 risultati utili, non so, da 6 vittorie. Non c'è partita migliore di questa, secondo me dobbiamo essere, come ho detto l'altra scorsa volta, per vincere queste partite bisogna essere cattivi. Bisogna mettere in campo la cattiveria giusta, la spenceratezza che abbiamo perso queste ultime due partite. Sono confinto che soltanto così riusciamo a portare a casa qualcosa, mettendoci in campo quella determinazione che abbiamo perso queste due partite.